allora ciao a tutti vi aspettiamo quando è 4 febbraio 4 febbraio dove piccolo teatro comico piccolo teatro comico con smile uno spettacolo di stand-up comedy e magia e magia grande magia io mi occuperò della parte magica stefano gorni sopra parte comica parte comica quindi asciughiamo tutte le risate ok esatto lui va le battute faccia sparire le risate soprattutto presenta franco abba io solo per quello verrei quello lì è il valore aggiunto quindi vi aspettiamo tutti sabato 4 febbraio piccolo teatro comico all'ora 21 ciao